E' durato circa due ore e mezza in procura a Teramo l'interrogatorio di Luigi Wilmo Franceschetti, il pilota indagato per omicidio colposo e disastro aviatorio, rimasto miracolosamente illeso nello scontro tra due velivoli il 31 maggio scorso durante l'air show a Tortoreto. Franceschetti ha risposto a tutte le domande del PM Stefano Giovagnoni, fa sapere l'avvocato Massimo Bonvicini fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Sul contenuto delle sue dichiarazioni vige il massimo riservo e da quanto si apprende Franceschetti ha nominato anche un consulente di parte, Roberto Piovani, per gli accertamenti sui resti dei due velivoli. Il pilota, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa lasciando parlare il suo avvocato, al termine dell'interrogatorio ha ringraziato gli uomini della Capitaneria di Porto per averlo soccorso dopo l'ammaraggio e avergli così salvato la vita. Sempre oggi è stata affidata all'ingegnere aeronautico Tarcisio Carollo la perizia che dovrà chiarire il perché dell'incidente aereo costato la vita al pilota di Siena Marco Ricci. Luigi Wilmo Franceschetti resta l'unico indagato per l'incidente mortale.